Dopo tanti anni di sacrificio e dopo un cambio culturale con l'introduzione della raccolta differenziata cominciamo ad avere i nostri primi frutti e da quest'anno ci sarà un risparmio per le tasche dei cittadini di Ventimiglia in cui in bolletta si troveranno una bolletta più leggera grazie anche alla raccolta differenziata che va bene e che sta producendo i suoi frutti sperati. Si andrà da un risparmio di circa 15 euro fino a un massimo di 25-30 euro in base alle tipologie che sono previste dal nostro regolamento. Un cambio di passo importante che ci fa sperare e soprattutto abbiamo grande fiducia per il futuro perché certamente una volta intrapresa la strada del risparmio e della raccolta differenziata si può andare sempre a migliorare. Ci sono altre iniziative importanti, una riguarda un museo. Certo, il museo archeologico su cui stiamo lavorando, un museo archeologico che prende spunto da un importante insediamento bizantino che c'è a Ventimiglia, dopo tanti anni siamo riusciti a sbloccare un apparato burocratico che era elefantiaco e diciamo un pochettino poco efficiente, siamo riusciti a aprire questo museo che nelle prossime ore apriremo ma soprattutto una buona collaborazione con la sovrintendenza e qua sarà la novità una bellissima sinergia con l'Università di Palermo in particolare con la Facoltà di Architettura in cui tutta l'area su cui sorgerà il museo archeologico sarà oggetto di studio di workshop degli studenti di architettura su cui produrranno delle tavole e poi le tavole più belle verranno acquisite dal Comune che le proporrà in qualche finanziamento europeo proprio per un miglioramento dal punto di vista urbanistico del nostro Paese. Una bella sinergia tra istituzioni che piace alla gente ma soprattutto la cosa più importante è pronta ai suoi frutti.